Avete mai sentito parlare dell'espressione break-even point? In economia aziendale indica il punto di pareggio tra profitti e perdite. Traslato in ambito occupazionale, non si può ancora parlare di pareggio, ma di certo a marzo 2021 si è assistita a una svolta. A leggere infatti i dati forniti il 17 giugno dell'Inps sui primi tre mesi dell'anno, si evince che rispetto a marzo 2020 c'è stato un incremento del 16% di assunzioni. Confrontando i numeri dei primi due trimestri, del 2020 e del 2021, quest'anno si rimane in territorio negativo, ma ulteriore elemento di ottimismo, tra gennaio e marzo 2021 a fronte di 1.274.000 assunzioni ci sono state un milione di cessazioni. Questo vuol dire che si registrano comunque oltre 270.000 posti di lavoro in più.